Ciao a tutti ragazzi, sono Tony e oggi vi porto un nuovo video Siamo finalmente con un Mac In realtà sono i passi di mio zio e sto facendo una prova di ridere challenge Amen Comunque, buon Natale a tutti Oggi è 25 di Natale Potete anche vedere, sono le 5.20 Domani o dopo domani forse mi vado a prendere Comunque ragazzi, mi hanno interrotto un attimo Perché, come ho detto, è la stanza di mio zio Giustamente c'è un cane là, non so se lo vedete Però, sta là un cane Mi hanno interrotto, quindi stavo dicendo Faremo questa prova a non ridere challenge Com'è che lo dici tu? Try to not challenge Come stavo dicendo, stiamo con il mio cugino Ciao, però non mi faccio vedere Non si fa vedere la bisogna E iniziamo Oh mio Dio Però, creo una calofra anch'io, solo che non mi posso vedere Oh mio Dio Porco tu è Madrona, il T-Rex, cazzo duro, è morto Questo è L'ha presso alle spalle Hello Lui è molto... Vabbè, vuole essere pure lui, quel che vuole... Guarda, guarda Se ridi, sei una persona cattiva Cosa vuoi, credo? Oddio Non ho visto questo è successo, ma per me Questo mi piace male Non ci sta finendo male Eh, hai visto il cazzo... Nooo 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 Ho scritto grande culo nero? Che vuoi? Miniglass... Che vuoi? Miniglass black, vuoi... No, vabbè, non poteva essere Oh mio Dio Non voglio fare più Rosso come un nero, forse Ah, niente Porco tu è Porco tu è Porco tu è Runt L'hai tirato la pesce in faccia Oh, vabbè, chiunca Sì Vienes 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 What the fuck Oh mio Dio Ma stiamo un bel piano Oddio Nooo Peccato Che cazzo stai dicendo? Oh Eh Eh Questa guarda mi ha detto Eh 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 Ma è finta lei Nooo Pummi Cosa? What the fuck Malato Oh mio Dio Non hanno provato a ridere No, non è possibile Sbaglio Hanno provato a morire No, questo E questo si sta vincendo Ha vinto la challenge Cazzo Prima di non morire E questo ha vinto la challenge Cioè no vabbè Non riuscivo a mettere qua Guarda Perchè? Non lo so Non lo so Non lo chiede Questo finisce male Ah si giustamente Perchè? 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 E' sparita E' sparita infatti Guarda Guarda E' sparita la penna Guarda E' sparita E' sparita E' sparita E' meglio di questo Guarda Voila Non l'hai fatta cadere neanche? Eh 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 Aspè Mirio Eh 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 No ma sta accanto Allora Allora Vieni messaggi No 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 Mi hai capito nooo quello la questo qua si sta incazzando tu non ci fai partire dobbiamo lasciare partire buona notte questo è quando studi troppo non c'è più fuori fuori è così weak è l'immuffare l'immuffare guscia ma questo non è una prologa non è una prologa non è un bordo questo se metti se metti lo schermo lì non è un bordo stai calmo figlio mio come è che è calmo oh mio dio no questo finisce male si questo qua è morto o se ne va a terra o vola lui se ne va a terra e all'imente invece dimmi ecco il ciò questo è una sculaccia c'è un piede Oddio Aspetta Oddio Dio L'abbia mi esegito Comunque ragazzi, grazie tantissimo Anche dei 200 iscritti Non ho portato uno speciale a 100 iscritti Perché mi sono scordato Ma dei 200 iscritti Prima o più uscirà Prima o più Comunque, appena arriviamo ai 5 like O se superiamo Per me è un sogno, cazzo Arrivare a 20 almeno like 20 like, 100 like 50 Noi arriviamo ai 5 like Se noi speriamo va bene Comunque Se arriviamo ai 5 like O lo speriamo come stavo dicendo Faremo 1v1 con il mio cugino Su cod E dopo domani Ve lo dico Prenderò la webcam Della playstation a 60 euro Buono come si E quindi ragazzi Ci vediamo al prossimo video Bella